Ciao, sono Michele Cirillo, product specialist della linea Endy Surgery di Tecnomed Italia. Sono contento che tu voglia approfondire le potenzialità della nostra poltrona chirurgica Morpheus. Innanzitutto sono orgoglioso di affermare che è stata progettata e realizzata interamente in Italia dal nostro staff. Ora inserisco la spina, una volta inserita la spina non faccio altro che accendere la poltrona con la pressione di questo pulsante. Fatto questo vorrei iniziare spiegando la differenza fondamentale tra la poltrona Morpheus e una poltrona odontoiatrica standard. Come noto a tutti, la poltrona odontoiatrica standard possiede due motori per la movimentazione di alzate e discesa di seduta e schienale. Si tratta di una soluzione abbastanza limitante in campo chirurgico ed ecco perché la nostra poltrona Morpheus è equipaggiata di serie con quattro motori silenzi e a bassa tensione. Due per le classiche movimentazioni di salita e discesa di seduta e schienale. Gli altri due motori servono la salita e discesa del poggiapiedi e l'inclinazione del Trendelenburg o posizione anti-shock. Con questa soluzione riuscirai a posizionare il paziente adattandolo alla tua impostazione di lavoro. Ma come si movimenta la poltrona? In ambito odontoiatrico si è abituati ad avere un joystick mentre in ambito chirurgico un pedale a filo. La nostra poltrona Morpheus rispetta le abitudini dell'odontoiatria presentando due joystick posti nella parte posteriore della poltrona. Il primo joystick movimenta i motori di salita e discesa della poltrona schienale e salita e discesa. L'altro joystick va a movimentare l'alzata e discesa del poggiapiedi o la posizione anti-shock. Oltre ai due joystick abbiamo corredato la nostra poltrona Morpheus con una console con dieci pulsanti. Come vedi può essere agganciata sia sul fianco sinistro che sul fianco destro perché è corredato di un cavo spiralato quindi può essere utilizzato sia dal medico che dall'assistente. Se guardiamo il pannello comandi noteremo due pulsanti centrali. Questi due pulsanti servono per posizionare con una sola azione la poltrona in posizione lettino o in posizione seduta per facilitare la salita e discesa del paziente. Salta all'occhio un'altra differenza rispetto ad una poltrona odontoiatrica standard. La Morpheus infatti è realizzata completamente in acciaio inox senza la presenza di insenature e quindi facile e rapida da igienizzare. Con questa soluzione potrai utilizzare anche disinfettanti aggressivi e dirai addio a plastiche rotte o ingiallite perché come sai l'acciaio inox è inattaccabile. La tappezzeria è disponibile in 36 colori e realizzata interamente da artigiani marchigiani. Noterai che l'imbottitura è alta 5 centimetri. Un'imbottitura più sottile non avrebbe garantito una seduta confortevole. Puoi vedere i colori e le certificazioni cliccando qui in basso. Abbiamo adottato la Morpheus di questo inserto realizzato per colmare il vuoto che si forma quando lo schienale è totalmente abbassato. Vediamo. Andando ad inserire questo abbiamo un effetto lettino. È possibile inoltre aumentare la lunghezza totale della seduta facendo traslare il poggiapiedi dopo aver allentato la leva di blocco. Quindi faccio traslare verso il basso. Ho aumentato la mia seduta. Ovviamente anche il poggiattesta è regolabile e si può allungare sino a 15 centimetri. Con questa manopola invece si può andare a fare questa rotazione per consentire di appoggiare la testa anche a chi è più basso ma soprattutto anche ai bambini. Abbiamo realizzato un poggiattesta opzionale facilmente sostituibile. Vediamo la sostituzione. Perché abbiamo realizzato questo poggiattesta? Perché all'interno abbiamo inserito questo ovale estraendo il quale vado a liberare il mio poggiattesta e quindi mi permette di mettere il paziente in posizione supina quando il lettino è sdraiato. Ora vorrei mostrarti un dettaglio molto importante di questa poltrona. Infatti vediamo che se metto la mia poltrona in posizione lettino, tirando su tutta la poltrona noterete che la testa del paziente si trova a un metro da terra, a differenza di una poltrona standard che arriva ad un massimo di 80-82 centimetri. Questo ci permette di fare che cosa? Di poter lavorare anche in piedi. Tengo a precisare inoltre che la colonna della nostra poltrona può sollevare sino a 200 kg. L'altro joystick che abbiamo invece, come dicevo, ci permette di andare a cambiare l'inclinazione di 10 gradi, l'inclinazione di Trendelenburg o posizione anti-shock. Quindi semplicemente con quella leva ho messo il paziente in posizione anti-shock. altra cosa molto importante è che avrete notato che nelle movimentazioni di salita o discesa della mia poltrona o comunque in qualsiasi caso poggiapiedi, la posizione di Trendelenburg, l'asse della testa del paziente era sempre sullo stesso punto. Questo grazie appunto alle movimentazioni dei quattro motori, cosa impossibile in una poltrona standard, perché la poltrona standard per permettere tutte le varie movimentazioni è dotata di un sistema pantografo e quindi mi va a traslare in avanti o indietro la testa del paziente. Questo mi comporta che cosa? Comporta che io mi debba sempre dover aggiustare o col braccio della faretra o col braccio della lampada o col seggiolino in avanti indietro per rimanere sempre sulla testa del paziente. La stabilità della poltrona Morpheus è garantita da un basamento rinforzato e la presenza di pistoni di compensazione riduce notevolmente le oscillazioni durante l'intervento. Quando andrai a configurare la poltrona cliccando qui sotto potrai scegliere vari optional che adesso ti illustro. La poltrona in oggetto è corredata di quattro piedini. Questi quattro piedini non fanno altro che rialzare il basamento da terra. Questo uno per permettere agevolmente di arrivare fin sotto la poltrona sia col seggiolino ma anche con i piedi e due avrai la possibilità di poter igienizzare in maniera comoda il pavimento. Tra gli optional disponibili è possibile richiedere le quattro ruote con il freno che andranno a sostituire gli attuali piedini. Le quattro ruote permetteranno di poter movimentare la poltrona e quindi portarla in una zona post operatoria agevolmente anche perché basta staccare semplicemente la spina sciucco di cui è corredata. Inoltre se andremo ad aggiungere tra gli optional il gruppo di continuità sarà possibile anche movimentare la poltrona anche in assenza di corrente per la durata di un'ora. Con l'opzione ruote abbiamo realizzato anche una piastra di stabilità che vi permetterà di sollevare le ruote posteriori della nostra poltrona Morpheus agendo semplicemente sulla manopola affinché la poltrona non si sposti. Scegliendo invece l'opzione rotazione sarà possibile agendo su questa manopola far ruotare la nostra poltrona sulla sua asse di 100 gradi. Questo vi permetterà di avere la testa del paziente completamente libera e sul pavimento. Il design della copertura posteriore dello schienale è stato studiato per agevolare l'entrata delle ginocchia del medico sotto lo schienale della poltrona. Passiamo ora ai braccioli. Avrai la possibilità di scegliere bracciolo destro e bracciolo sinistro standard dove il bracciolo destro è fornito di apertura compasso oppure uno dei due braccioli prelievo ancorati ai binari laterali ovvero quelli che vediamo montati adesso. Il vantaggio di questi braccioli è che possono essere posizionati in qualsiasi maniera. Infatti una volta inseriti e l'inserimento è facilitato da questa manopola e da questo binario che mi permette di far scorrere questa pinza. Inserendo i nostri braccioli ho la possibilità di movimentare e alzare la discesa del bracciolo quindi in base alla statura del nostro paziente o in base al tipo di intervento che dobbiamo fare vado a movimentare questo ma posso anche allargarlo portarlo più verso la poltrona. Quindi vado ad adattare nel miglior modo possibile i braccioli affinché il paziente sia messo in una posizione confortevole per tutta la durata del nostro intervento. Vediamo l'asta portaflebo. In questo punto infatti abbiamo il supporto per l'asta portaflebo sia sul lato sinistro quindi sul binario sinistro ma anche sul binario destro. Andremo ad inserire semplicemente la nostra asta portaflebo in questo punto qua. Stringendo questa manopola andremo ad ancorare la nostra asta portaflebo. Il supporto dell'asta portaflebo è studiato anche per l'inserimento dei reggi coscia che andranno inseriti esattamente nello stesso punto in cui prima avevo l'asta portaflebo ed è possibile sempre effettuare la regolazione degli stessi agendo su questa manopola. È possibile poi inoltre ruotarli perché abbiamo sempre la possibilità tramite questa manopola di andare a fare tutte le movimentazioni del reggi coscia. In questo modo non abbiamo fatto altro che trasformare la nostra poltrona chirurgica in una poltrona ginecologica. Dal video introduttivo si evince che il punto di forza della nostra poltrona Morpheus è che si presta a tutti gli scenari medici perché noi siamo dell'idea che una sala debba essere operativa al 100% e non ci si può permettere di lasciare una poltrona vuota. Con questo ho finito. Se hai bisogno di altre informazioni puoi contattarci cliccando qui. Se invece vuoi approfondire anche le altre parecchiature che compongono la linea ci vediamo nel prossimo video. Grazie e un ciao da Michele Cirillo, product specialist della linea Endy Surgery di Tecnomed Italia.